Signore e benvenuti in una nuova puntata di Resident Evil 2 Remake Allora ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo messo piede nelle fogne e ci appropinquavamo ad esplorarle Ovviamente ragazzotti, io nei video precedenti vi ho già spoilerato il fatto che ho scaricato Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil 4 Quindi la serie su Resident Evil sarà una serie destinata comunque ad andare per le lunghe Perché comunque avremo da fare Resident Evil 4 che è bellissimo, sempre con Leon Resident Evil 1 che io non ho mai fatto, cioè ho fatto in parte ma non l'ho fatto del tutto Quindi sarà bello da fare E vediamo, vediamo Sto cercando lei? Non c'è più tempo Devo sbarazzarmi Siamo qui per il virus G Puoi scordartelo? L'avvento, dottoressa Ah sì? Ehi! Ferma! Vada! Non avrete mai il virus G! Non sembra la tipica scienziata Leon! Non pensi a me Lei vada La fermi prima che scappi Ah 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 Sono fuori dalla struttura Mi seguo a lei Se non ce l'ha lei Sarà nell'inest Una volta preso ordinerò l'estrazione Corri quanto vuoi a me Ma non puoi nascondere E adesso Adesso usiamo Ada 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 come Ava Ok La differenza Agirei in modo diverso Avremo molti meno colpi rispetto a Leon Quindi dovremmo saperli gestire Quindi dovremmo saperli gestire Per il meglio Quindi Facciamo così Prima di tutto Dobbiamo cercare L'interruttore Che sta qua Una volta trovato l'interruttore È facile Basta overclockare anche quello Bim Esploderà l'elica O la ventola E noi possiamo Andare avanti Perfetto Un consiglio che vi do È Allora Soprattutto in questa fase Non Cioè cercate di Comunque di Semplificarvi le cose Per esempio In questo caso Noi dovremmo aprire Quella porta Che usa lo stesso interruttore Ma che avrà bisogno Dello switch Quindi noi Adesso apriamo la porta Qui C'è uno zombie Oltre a un Ovviamente Coso Un documento Quindi passiamo da qua Immediatamente Aspetta A meno che non mi stia dimenticando No Non mi stia dimenticando niente Però ovviamente Per poter Ecco No Bastardo Non volevo Che succedesse Perché Ecco E lei cosa fa? Lo manda lì indietro Farlo venire qua Ok Ok Facciamo Apri la portata Per favore Dove cazzo è lo switch Ok Chiuditi Perfetto Adesso non dovrebbe più riaprirsi la porta Quindi uno zombie ce l'abbiamo messo lì dietro E non dovrebbe aprirsi la porta Anche a prescindere che Il ciccio E abbiamo già risparmiato di colpi utili Perfetto Altra cosa Dobbiamo cercare Di Attivare la corrente Anche qui Però Ora come ora Non mi ricordo dove si trovasse Ecco Così almeno uno La gamba ce la terra E ciccia Ora vediamo Dove cacchio stava l'interruttore Solo che non mi ricordo Non mi ricordo proprio Allora qua c'è il cavo Che va verso lì Ci prova da già Hai pochi colpi in più Ecco Così almeno È bella rallentata Allora Vediamo un po' Dobbiamo un attimo Concentrarci Raga Perché Ecco Se ti pareva Non è lo stesso Che Che abbiamo affrontato Prima raga Eccola qua Perfetto Thank you Dove stai Però qua mi sto No No Togliti Cazzo Stronza Levati dai coglioni Sto dimenticando Le proiettili Cazzo Ignoriamolo Ormai Innocuo Senza gambe Innocuo Qua dei proiettili Ho lasciato Vero Eh me lo immaginavo Più La granata Eh si Carica Vediamo Ok Ho preso tutto So che adesso Devo aspettare Che questi Stronzi Stronzi Facciamoli Accelerare un attimino Li attiviamo Tutti e due Nello stesso punto Dai Ok Perfetto L'altro che ho lasciato qua Dov'è? Ok si Sto cercando Di salire In perterrito Vabbè dai Lasciamolo Perde Ormai dovrebbe essere Abbastanza tranquillo Ah ma c'è anche Mister X Qua C'è anche la scena Con Mister X Poi tra l'altro Non so perché Ce l'aveva con Ok qua Dovrebbe essere Abbastanza Easy Però dobbiamo Ricordarci Prendere queste Ah l'interruttore Lo switch Porca puttana Sono stato deficiente Sono stato stupido Perché Ho ignorato Mister X Non sapevo dov'era E l'ho ignorato E ne ho pagato le conseguenze Tyrant La maggior parte delle armi Non fa nemmeno Solletti Con l'enorme Tyrant Vabbè Grazie al cazzo L'avete reso invincibile In questa parte del gioco Lo puoi solo Rallentare Facendolo cadere a terra Ma Alla fine Alla fine dei conti Raga È abbastanza Inutile Perché Cioè Ok Ah da qua Mi fa iniziare Perfetto Ok Armiamoci subito Di questo Dove stai? E qui E qui E qui E qui Via All'ultimo All'ultimo Proprio all'ultimo Perché era dietro di me Che poi è una scena Abbastanza inutile Quella del Tyrant Qua E Posso essere sincero Che qua c'è Il salvataggio Ma non Non mi interessa Qua sopra Dovrebbe esserci qualcosa Non dovrebbero esserci Più nemici A parte Quella che ci imprigionerà Nella Imprigionerà No Prigionerà Così si dice Sì Vediamo Ok Dovrebbe essere Allora L'unica cosa che ci manca È praticamente Il braccialetto Se non sbaglio Quindi se verrà questa Adesso Ah vabbè Ha tutto il Vuoi bruciarmi viva Non metterai mai Le mani sui G Non solo la sola Dai In realtà avrei potuto agire Perché invece Per storia No Non è quello Eh Non è questo Fanculo Stavo dimenticando E vabbè Ho sbagliato Non so se riuscirò a sopravvivere 30 secondi 30 secondi Sono un po' incasinato Senza motivo Vabbè Vabbè Può capitare Adios Però adesso col bracciale Possiamo passare almeno Nel primo livello Qui che cosa c'era? Ah qui c'è il passaggio segreto Di quella là Ok Ok E qua si conclude La parte di Ada Se non sbaglio Basta Giocare a nascondino E va bene Cambiamo gioco Dimmi Tuo marito è ancora vivo O l'hai ucciso Per prenderti il merito del G Teoria interessante Se non collaboro Otterrò un campione dal nest Non finché sarò tu Cazzo Dov'è Leon quando serve? L'hai lasciato indietro Adesso Adesso che ti serve Ma adesso arriva Adesso arriva Non ti preoccupare Non disperare Poi tra l'altro Devo dirvi la verità Avendo giocato anche al 3 Remake Il 2 C'ha quel non so che Di Indovinelli in più Che il 2 Che il 3 Non ha Ed è molto Molto A me piacciono i giochi Così Mi piacciono Un casino Adesso dovrebbe redarci Leon al massimo Col cazzo Sveglio come un sasso Leon proprio Ok qua possiamo salvare Vediamo come siamo messi a cure E a proiettili soprattutto Ma siamo messi piuttosto bene Devo essere sincero Qua c'è oggetti? No Non ce ne sono Ok da lì Ah ma adesso ci sono quei No Mamma mia Raga Non si stanno scaricando Le pile Cioè le pile La La carica Della Delle cuffie Ok scusate Il silenzio Raga ma È più che normale Allora Qua dovremmo utilizzare La manopola Quindi dovremmo ricordarcene Poi Qui dovrebbe esserci una scala Qui vicino Ma lì se non sbaglio È dove passiamo con No Non può essere con Jill No 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 Mi sa di no Buono Buono Assolutamente comodi Qua dovrebbe esserci Nuovi mostri Praticamente Allora qua abbiamo preso tutto Ok qui non dobbiamo neanche preoccuparci Faccio il tizio Della umbrella Videocassetta Videocassetta Perfetto Perfetto Così almeno Evitiamo di Dopo di Averti mazzicoglioni Anche tu Qua dopo Viene un attimo Hai resistito Mannaggia a te Allora no Ah Non ho il coltello Eh la pistola Perfetto Tre colpi di pistola Sti cazzi Si possono sprecare Poi c'ho Una vagonata Di 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 Munizioni Di Munizioni Di Polvere da sparo Quindi non Non è un problema Assolutamente Ecco Beh certo Ma certo Mi dai il coltello Proprio Quando non mi serve Qua C'è qualcosa No Sembrava qualcuno Lì non posso andare Quindi l'unica strada Ovviamente È questa Nel profumo Di fogna Minchia Mi ha tolto Le parole di bocca Lì Anche qua Bisognerà Usa Oh Pianta blu Ma Raga Io direi Di lasciarla qua Perché non so Se gli spazi Nel tanto Da qua Ci ripasseremo In ogni caso Quindi Questa Questa per questo vanno bene per questo vanno bene i colpi della Magnum sono consentiti diciamo perché raga in altro modo sarebbe solo uno spreco di proiettili quindi tanto vale usare direttamente direttamente l'arma più forte che abbiamo allora qua se non sbaglio dovrebbe esserci un'erba rossa che sta lì tra l'altro no lì c'è la manovella ricordiamoci che è la manopola qua non c'era gente scusa c'era qualcuno però che proiettili per il fucile non mi ricordo mi sembra che era Z S Z F può essere si me la ricordavo che culo ah tra l'altro proiettili per la Magnum uuuuh perfetto 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 allora qua abbiamo preso tutto sì quel rumore non mi piace dove sei arrivo arrivo coglione stai già subito a pensare cosa potresti farci con Ada vero eh maialone ok fatto ciò volantino vabbè questo è il volantino che ci spiega che in poche parole c'è questa specie di minigioco con con le con i cosi con i pezzi degli scacchi adesso lo vedremo qua possiamo usare la videocassetta vedere che cacchio è successo almeno cercare di capirlo ti prego ti prego basta fermo ti prego ti prego no 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 da questa parte è schifoso lascialo non fargli male no 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 e qui abbiamo un attimino no si i rati si i rati i rati i li i rati si 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 tu pensa che siano i rati tu pensa sempre che siano i rati ok allora qua abbiamo un bel giochino allora innanzitutto abbiamo tre scatole io vi consiglio sempre ragazzi di prendervi un bel foglio per questo giochino perché io non mi ricordo com'era l'ordine abbiamo tre scatole vuote una su cui è disegnato il cavallo come vedete qua da questa immagine no qua abbiamo altre tre scatole in una è disegnato il pedone e ricordatevi che dovete metterli cioè ovviamente in ordine però dovete metterli in un ordine ben preciso ora ovviamente ci sono già degli spinotti inseriti all'interno no noi abbiamo quello dell'alfiere non so più dire del pedone ma del pedone è questo quello del pedone quello dell'alfiere e quello del cavallo perfetto poi qui c'è sblocare la porta dell'area U ho perso le istruzioni che dicono come aprire la porta dell'area U durante l'ultimo urgente trasferimento so che bisogna inserire uno spinotto in ogni termine non ricordo l'ordine se qualcuno lo sa per favore scrive su questa bacchecca e qua c'è scritto ovviamente i consigli da seguire per poter trovare l'ordine giusto ovvero se non sbaglio la torre e il cavallo sono sullo stesso muro e l'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro la regina e la torre invece sono i lati opposti quindi scriviamoci così torre cavallo stesso muro muro quindi torre e cavallo stesso muro alfiere e la regina alfiere e regina non a fianco all'altro non a fianco e regina e torre non sono sono i lati opposti lati opposti ora penso che vi farò comunque una sorta di immagine qui durante la mia spiegazione allora abbiamo qui sopra ci sono sei quadratini farò sei quadratini il primo ovviamente è quello dove sta l'immagine del cavallo la prima linea è dove sta praticamente voi metterò anche il lion puntato verso la scrivania questa scrivania qua così capirete magari tutta la destra c'è la scrivania quindi la parte alta e i quadrati alti sono quelli là dove c'è il cavallo raffigurato il cavallo poi la parte bassa ovviamente quello dove c'è raffigurato il pedone ora non ci dice niente sul fatto che il cavallo e il pedone vadano messi in posizioni diverse rispetto a dove sono stati indicati ovvero dove c'è l'immagine del cavallo e dove c'è l'immagine del pedone quindi partiamo da questa presunzione da questa supposizione quindi cavallo qua e pedone dove vanno messi perché non ce lo dice non ci dice il cavallo e il pedone non sono dove vengono indicati la torre e il cavallo sono sullo stesso muro quindi vuol dire che la torre si trova nel lato del cavallo può essere nella casella numero 1 o nella casella numero 2 allora l'alfiere e la regina non sono l'uno a fianco all'altro il che mi fa supporre che l'alfiere o la regina si trovino nel lato del cavallo praticamente perché uno è il cavallo l'altro è la torre l'altro è l'alfiere o è la regina quindi andiamo a controllare regina e torre lati opposti quindi se la torre si trova nel lato del cavallo vuol dire che la regina per forza di cose deve trovarsi nell'altro lato però deve essere di fronte perché i lati opposti vuol dire che sono uno parallelo all'altro quindi vuol dire che la torre e la regina si trovano nella posizione centrale mentre allora fammi capire una cosa torre e regina lati o fionchi gli altri lati opposti torre e cavallo alfiere e regina ah è praticamente l'alfiere sta a fianco alla torre e la regina sta a fianco mi manca ah al re mi manca un pezzo ovviamente che non è spiegato ma sono re torre cavallo regina alfiere e pedone quindi abbiamo detto torre e cavallo sullo stesso muro e l'abbiamo risolto quindi sono uno e uno poi alfiere e regina non sono l'una a fianco all'altro e sono uno nel primo slot in alto e l'altro nel secondo slot nel primo slot tutto a destra uno primo slot in alto a sinistra uno primo slot in alto a destra no? ultimo slot in basso facciamo così e torre ovviamente a fianco all'alfiere cavallo all'ultima posizione della prima della prima striscia pedone la prima regina al centro e re per ultimo perfetto ragazzi perfetto 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 mi piace fare questi questi indovinelli vedete allora prima qua va il cavallo poi qua va il pedone infine l'alfiere va di fronte al pedone ovvero qui perfetto quindi per il momento possiamo lasciare così raga io chiudo la puntata qui perché ovviamente si è fatto tardi si è fatto molto tardi sono le 3 del mattino quindi io devo chiudere perché domani tra l'altro devo fare la terza dose del bacino quindi devo alzarmi a un orario un po' decente sabato io non vedo l'ora in realtà che sia sabato più che altro poi vedremo forse farò un video farò un video col telefono e vi farò vedere un attimino quanto posso possa essere felice una persona e quanto mi sono davvero sentito realizzato a fare questa cosa per il momento è tutto ragazzi io sono Mette ci vediamo alla prossima